il teatro palladium di roma ospita la pièce intitolata l'onda di maometto testo di strettissima in attualità scritta a quattro mani da due penne importanti come Alberto La Volpe e Livio Zanotti nomi piuttosto noti nel campo del giornalismo ed è proprio il mondo dell'informazione a fare da cornice nello spettacolo adattato da Stefania Porrino e diretto da Paola Sarcina Non so se è più adatto il grande schermo per affrontare questi temi o il teatro credo che il teatro abbia il vantaggio di andare in diretta e che quindi temi anche così possono forse arrivare anche in maniera più forte al pubblico rispetto anche al grande schermo Nell'ultimo venerdì del mese sette giovani attori danno vita ad uno show che si prospetta dinamico e accattivante ad innescare la vicenda e il rapimento di una giornalista televisiva inviata in Pakistan fatto che porta ad accendere i riflettori sui meccanismi che sono alla base del processo informativo così come sull'importanza del dialogo tra le culture sarà quindi il confronto fra due docenti di islamismo a permettere di risolvere la faccenda Sicuramente lo spettacolo parla appunto di quello che è il problema diciamo anche della mediazione col mondo islamico diciamo di quello che è la realtà diciamo complessa del mondo islamico però in realtà il tema principale è anche quello della comunicazione e diciamo del ruolo dei media e di quanto i media e quindi l'attività di giornalismo poi interviene nel comunicare certe notizie nel trattarle e a volte anche ne influenzare poi gli avvenimenti che possono nascere anche da come queste notizie vengono trattate e diffuse Grazie Grazie Grazie